... Dopo 48 anni dalle imprese del mitico Jesse Owens nelle Olimpiadi di Berlino del 1936 davanti agli occhi di Hitler, nel 1984, alle Olimpiadi di Los Angeles, un ragazzotto di 23 anni dall'aria un po' spavalda eguagliava il primato di vincere 4 medaglie d'oro nell'atletica. C'è un silenzio assoluto qui al Coliseum per seguire la prova di Carl Lewis. 100 metri, 200 metri, salto in lungo e staffetta a 4%. Da quel momento in poi, Carl Lewis divenne per tutti il figlio del vento. La vita è rincorrere il tempo. Questa è una delle frasi più famose del figlio del vento, Carl Lewis, il solo campione dell'atletica leggera, capace di conquistare 9 medaglie d'oro alle Olimpiadi. E già che c'era, ne ha presa anche una d'argento e una di bronzo. Carl Lewis è un predestinato. Nato nel 1961 in Alabama, nel profondo sud degli USA, i suoi genitori erano entrambi atleti. La madre partecipò alle Olimpiadi del 1952. Molte volte i genitori, non avendo una babysitter a cui affidare Carl, lo lasciavano giocare nella fossa di sabbia della pedana del salto in lungo, mentre loro si dedicavano agli allenamenti. A 14 anni, divenne il miglior saldatore in lungo dello stato del New Jersey. Già all'epoca aveva le idee chiare. Il mio obiettivo è diventare miliardario, non ho voglia di lavorare, disse al suo coach. Carl si fece trovare pronto ai primi appuntamenti importanti. Ai campionati del mondo di Helsinki, nel 1983, conquistò tre medaglie d'oro. Ecco l'atleta dell'Arabana, che ricalca le orme del grande Owens. Fantastico salto! Fantastico salto! Nell'USA, Carl Lewis era per tutti l'erede di Jesse Owens. Ormai è scontato che Carl Lewis sia l'erede del grande Jesse Owens, così perlomeno viene presentato e lo dimostrano d'altra parte i risultati. I think Jesse Owens' performances outshadowed. Jesse Owens, vincendo quattro medaglie alle Olimpiadi, soprattutto in quel periodo, senz'altro ha fatto la cosa più grande. in track and field. I declare open the Olympic Games of Los Angeles. Oh, say can you see by the underly light What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming Le Olimpiadi di Los Angeles confermarono la grandezza di Carl con il record di quattro medaglie d'oro. Ed ecco il grande protagonista di questa giornata ricevere la sua prima medaglia d'oro. Il clamore dell'impresa fece di Lewis un personaggio popolarissimo nel classico stile americano del self-made man. Qualunque cosa fai nella vita che si tratti di atletica, di moda o di spettacolo trovi sempre un senso di soddisfazione dopo una vittoria. quando cerchi di presentarti al meglio è una gioia e una vittoria. Ma se non lo fai vincere non ha un grande significato. Carl continuava a mettere successi e record. In un'intervista disse ho sempre pensato di essere nato per fare qualcosa di importante. Sarai stato il migliore di tutti. Pensate che dopo aver fatto seppellire insieme al padre l'oro conquistato a Los Angeles nel 1984 nei 100 metri piani Lewis disse alla madre non preoccuparti ne vincerò un'altra. Nessuno, proprio nessuno sembrava in grado di avvicinarsi alle sue prestazioni. Nessuno tranne un certo Ben Johnson. Nato in Giamaica da una famiglia povera Johnson emigrò in Canada nel 1976 debuttò ai giochi del Commonwealth nel 1982 dove vinse due argenti nei 100 metri piani e nella staffetta 4 per 100 metri. Poi ai giochi olimpici di Los Angeles del 1984 Ben raggiunse la finale dei 100 metri terminando terzo dietro Carl Lewis e Sam Grady. Fu lì che Lewis iniziò a notarlo. E dopo il record mondiale di 983 a Roma del 1987 a temerlo. Ben Johnson è arrivato qui in studio l'uomo più veloce del mondo quello che è stato considerato il proiettile umano Ben Johnson Big Ben Daniele Porto La domanda più ovvia che possa fare oggi come oggi che rapporto passa tra lui e Lewis cioè se incontra Lewis adesso in questo studio televisivo come reagisce? In pratica Ben Johnson dice che c'è una sana rivalità sportiva per quanto concerne la polemica riguardante il fatto che subito dopo la gara Lewis gli si è avvicinato per fargli complimenti o qualcos'altro e che lui non si è girato per salutarlo Ben Johnson dice che l'aveva dietro le spalle non se ne è accorto ma quando l'ha saputo l'ha apprezzato molto. Mi ha scelto e non mi lascio quindi l'ho apprezzato. Sì perché Ben Johnson è un tipo strano spavaldo forse pieno di rivalsa per le sue umili origini strano a partire dalla posizione di partenza che tutti chiamavano Arana per darsi la spinta iniziale con entrambe le gambe contemporaneamente raddoppiando la potenza sviluppata in partenza così Johnson che aveva un tempo di reazione allo sparo straordinariamente basso ai 30 metri acquistava un notevole vantaggio sugli avversari vantaggio che il più delle volte manteneva fino al traguardo insomma il figlio del vento contro il figlio della Giamaica Johnson contro Lewis Lewis contro Johnson Stati Uniti contro Canada arrivano i giochi olimpici di Seoul 1988 i giochi dove si tocca probabilmente l'apice nell'assunzione di sostanze dopanti da parte degli atleti un apice che emerge a prima vista davvero in evidenza dal numero di medagli addirittura 102 che un paese come la Germania orientale riesce a conquistare ma nonostante gli scandalosi atleti d'oltre cortina il caso di doping più clamoroso riguarda proprio la prova più attesa di tutta la rassegna olimpica la finale dei 100 metri piani di atletica leggera una finale che viveva sulla acerrima rivalità tra i due campioni Carl Lewis da una parte Ben Johnson dall'altra i due si affrontarono nella gara che avrebbe dovuto passare alla storia per una lotta tra due giaguari e invece passò poi alla storia per lo scandalo dopo Lewis si chinò per ultimo sulla riga di partenza quasi a voler scrutare fino alla fine la cerrimo rivale lo sentiva che non sarebbe andata dirà dopo Johnson era pronto a sfruttare al massimo le sue doti di esplosività cosa che di fatti avviene allo sparo dello starter perché quello che esce dai blocchi non è un atleta ma un proiettile che riesce a porre tra sé e i suoi avversari un margine irrecuperabile tanto che può permettersi di alzare il braccio destro al cielo in segno di esultanza prima di tagliare il traguardo accettando con sufficienza e quasi di controvoglia il gesto di Carl Lewis che gli tende la mano per complimentarsi Johnson fa lo straordinario tempo di 9.79 mentre il figlio del vento realizza in 9.92 la sua miglior prestazione all'epoca era la cronaca di quella che venne immediatamente ribattezzata come la corsa del secolo sembrava l'inizio del declino per Carl che comunque conquistò la medaglia d'oro nel salto in lungo e l'argento nei 200 metri finché a due giorni di distanza avviene un evento shock che sconvolge il mondo dell'atletica leggera e non solo in un'apposita conferenza stampa viene comunicata la positività di Ben Johnson agli esami antidopping eseguiti a fine gara essendo state trovate tracce di Stano Zololo uno steroide anabolizzante nel campione delle sue urine con conseguente squalifica ed estromissione dall'ordine di arrivo abbiamo ricevuto il medaglia d'oro e abbiamo avuto l'unico infortunato di rinforzare Ben dal team canadieno senta ma in quel momento lì la paura ha avuto la paura la paura che tutto tornasse come quando era poverissimo non sapevo cosa stesse succedendo mi sono allenato negli ultimi 13 anni della mia vita e tutto è scomparso che in un momento è molto ingiusto dopo tanti allenamenti e dedizioni ma materialmente la medaglia d'oro gliel'hanno ritirata gliel'hanno portata via dopo aver avuto la notizia non ero obbligato a restituirla però l'ho fatto perché mi sentivo ingannato perciò dovevo restituirla quindi non si ricorda chi e quando gliel'hanno portata via materialmente volevano la medaglia allora ho detto certo vostra prendetela perché possono riprendersi la medaglia ma non la mia velocità l'immagine di Ben Johnson in completo abito nero che lascia ascoltato dalla polizia al villaggio olimpico per fare ritorno in patria è una delle più tristi delle olimpiadi Johnson ammette di aver fatto uso di sostanze dopanti anche in occasione del record mondiale stabilito a Roma nel 1987 il record mondiale torna a Lewis a 30 anni compiuti nel 1991 ai mondiali di Tokyo Carl Lewis regalò a tutti gli appassionati emozioni incredibili in due gare destinate alle pagine della storia sportiva il National Stadium è esaurito cala il silenzio ai blocchi di partenza la partenza è valida splendida la partenza di Mitchell ma vediamo che sta uscendo molto bene anche l'eroe Barrell vediamo che esce Barrell e poi Lewis sul traguardo vince con il tempo di 9.86 ed è privato mondiale nei 100 metri non era certo il favorito ma il figlio del vento nella finale diede sfogo a tutta la sua carica agonistica volando al traguardo con il nuovo record del mondo 9.86 perché i record di Ben Johnson vennero cancellati dalla Yara la finale dei mondiali di Tokyo 1991 è considerata la più grande gara dei 100 metri di ogni epoca è un gran giorno un grande successo un gran tempo sono partito male quasi non ci credevo più sei l'uomo più veloce del mondo adesso ho lavorato tanto a lungo per riuscire a fare quello che altri hanno inseguito in vano ora ci sono finalmente riuscito l'anno seguente il 1992 Carl Lewis difese per la terza volta il suo titolo nel salto in lungo ai giochi olimpici di Barcellona aggiungendo un altro oro alla sua collezione con la vittoria nella 4% USA ed eccolo Carl Lewis in quarta corsia strepitoso 37.40 nuovo primato del mondo mancava ancora un appuntamento con la storia 4 anni dopo Barcellona nel 1996 ad Atlanta e a 35 anni suonati Carl Lewis è presente nella finale del salto in lungo prima del salto il suo ultimo salto l'ultimo della sua carriera non poteva però rimanere anonimo tra lo stupore e il giubilo generale King Carl King Carl balzò al primo posto conquistando la quarta medaglia d'oro olimpica consecutiva nel salto in lungo siamo allo stadio olimpico il momento è storico e solenne questo signore Carlton Frederick Lewis 34 anni e va sul podio per la quarta volta nella stessa specialità per la nona volta per l'oro in assoluto c'è stato anche un argento Carl Lewis si congedò dalle scene nel migliore dei modi sull'intest 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 sull'intest